Benvenuti ad una nuova edizione del Tg7. Oggi partiremo da un grave incidente avvenuto nei pressi di Roma che ha visto protagonisti due giovani trani. Scongiurata la chiusura dell'ospedale di Fondi grazie all'intervento del consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone. Ne parleremo. Ascolteremo l'intervento del sindaco di Fondi Salvatore De Meo rilasciato durante la conferenza stampa di giovedì sulla raccolta differenziata porta a porta. Ci collegheremo con la nostra redazione per le principali notizie di oggi dalla provincia e con la redazione di 26lettere.it testata che si occupa di editoria, cultura e innovazione. Passeremo alla pagina sportiva e ascolteremo le parole di Mr. Mariani, allenatore dell'Unicusano Fondi e vedremo infine le sfide del weekend. Tutto questo e molto altro tra poco al nostro Tg. Bentornati al Tg7. Un pericolosissimo incidente alle porte di Roma avvenuto nel pomeriggio di giovedì 28 aprile ha visto coinvolti Gianluca Ialongo, un 24enne panettiere di Itri e sua moglie, la 22enne Mara Fantasia in dolce attesa del secondo figlio. Gravissime le condizioni del giovane ancora in coma al Sant'Eugenio di Roma dove è stato ritrasportato verso le ore 16 subito dopo il tremendo impatto. Per la moglie ben 20 punti di sutura sul volto oltre a problemi ortopedici. Nessuna conseguenza stando alle dichiarazioni dei medici per il nascituro. La coppia si stava recando nella capitale per una visita medica quando l'auto o una matiz si è scontrata contro un albero. Ancora tutte da accertare le cause dello schianto. Cambiamo ora argomento. È stata scongiurata in calcio d'angolo, come dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone, la chiusura dell'ospedale di Fondi. La decisione di spostare gli anestesisti dall'ospedale di Fondi a Terracina già dai prossimi giorni e l'ipotesi di trasferire l'ostetricia al presidio di Formia sancirebbe la chiusura definitiva del nosocomio San Giovanni di Dio. Una scelta che non poteva cadere nel silenzio, tanto che Simeone si è immediatamente attivato, contattando il direttore generale della ASL di Latina, Giorgio Casati, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e la cabina di regia della Sanità della Regione Lazio. Lunedì il consigliere incontrerà dunque Zingaretti insieme al sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, per chiarire il futuro della sanità a Pontina. Tutti mi hanno detto, ha dichiarato Simeone, che non sapevano nulla di questo ordine di servizio e che tale ipotesi non troverà alcuna attuazione. Il direttore generale della ASL di Latina mi ha assicurato che provvederà con una nota immediata a bloccare tale trasferimento, assicurandomi che gli anestesisti resteranno all'ospedale di Fondi e che non ci sarà alcuno spostamento dell'ostetricia a Formia. Lunedì, conclude il consigliere, avremo modo una volta per tutte di chiarire con Zingaretti il futuro dell'ospedale di Fondi e di tutte le strutture della provincia di Latina. Siamo stanchi di dover correre ai ripari. I cittadini non meritano questo stato di incertezza e di approssimazione in scelte determinanti per la loro salute e per la loro vita. Durante la conferenza stampa che si è svolta giovedì 28 aprile presso la Casa Comunale per riepilogare l'attività amministrativa agli operatori dell'informazione, il Sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, ha annunciato l'inizio di una capillare campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata porta a porta, che prevede anche incontri informativi nelle scuole cittadine. Ascoltiamo le parole del Sindaco. La raccolta differenziata necessita obbligatoriamente di un coinvolgimento da parte dei cittadini, cittadini che saranno chiamati a conferire i rifiuti in orari prestabiliti, non ve li anticipo, ma sarà tutto poi riportato in una serie di materiale informativo che verrà consegnato direttamente ad ogni singolo utente. Ve lo dicevo prima, nei prossimi giorni i cittadini fondani saranno raggiunti da alcuni responsabili della ditta giudicataria del servizio che consegnerà il kit e farà un primo momento formativo e informativo. In quella circostanza tutti i cittadini possono rappresentare le proprie esigenze, possono rappresentare per esempio, faccio riferimento a chi ha neonati oppure a chi ha persone anziane, perché l'utilizzo dei pannolini o dei pannoloni può richiedere gratuitamente alla ditta un ritiro giornaliero di questo tipo di rifiuto. Quindi il momento iniziale è il momento più difficile dove metteremo a disposizione un call center oltre ad avere la disponibilità di tutti gli enti preposti del Comune che daranno tutte le spiegazioni e faranno sì che siano meno possibili disagi che fisiologicamente si potranno registrare per il passaggio da un sistema ordinario a cassonetto su strada a un sistema di porta a porta. In maniera graduale si presuppone che entro l'inizio dell'estate vera del mese di luglio i cassonetti stradali verranno ritirati. Quindi non escludiamo che ci possano essere ancora dei cittadini abituati o pensando che il cassonetto sia stato momentaneamente spostato. Anche sui cassonetti verrà fatta una comunicazione dove il cassonetto dirà di non essere più presente da una certa data. Tutte queste problematiche sono al vaglio degli uffici e anche della stessa polizia locale che sarà chiamata a vigilare e non a caso siamo in fase di studio di un regolamento per l'istituzione degli ispettori ambientali cioè dei soggetti volontari che saranno inseriti in un percorso formativo da parte della polizia locale che dovranno collaborare e supportare la polizia locale nell'individuazione di coloro che eventualmente hanno conferito in maniera impropria o addirittura abbiano abbandonato rifiuti. Continuiamo a registrare sul territorio fenomeni di scariche abusive. Questi sono fenomeni che hanno un costo per la cittadinanza. Io invito tutti a segnalare anche in maniera riservata agli ufficiali della polizia locale quelle che possono essere anche delle situazioni percepite vicino alla propria abitazione o alla propria attività perché anche in questo credo che si possa dimostrare uno spirito civico quindi collaborando con le istituzioni a fare in modo che alcuni non determinano questo scempio per l'ambiente. Monte San Biagio ancora una volta sotto i riflettori. È partita infatti la registrazione della puntata di Pollice Verde che vedrà protagonisti i vicoli monticellani. Il sindaco Federico Carnevale ha accolto il presentatore Luca Sardella mostrandogli le meraviglie del territorio. La puntata andrà in onda sabato 14 maggio sulla 7 alle ore 12. È stata rinviata in considerazione delle avverse condizioni atmosferiche previste per domenica 1 maggio la trentesima edizione della pedalata di Primavera Città di Fondi. La manifestazione si svolgerà giovedì 2 giugno. Colleghiamoci ora con la nostra redazione dove per noi c'è Ilaria Monacelli che ci parlerà delle principali notizie di oggi dalla provincia. Grazie Valentina Ancora sangue sulle strade pontine Erano da poco passate le 4 di questa mattina quando una Mercedes classe A con al volante un trentenne di cisterna di Latina si è schiantata contro due alberi ai margini dell'Appia. Il giovane purtroppo ha perso la vita. Restiamo alla cronaca Alessandro Zoff, 32enne di Latina ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta al Circeo nella notte tra sabato e domenica 6 marzo durante la quale furono gravemente feriti Roberto Guizson e Alessio De Cupis è tornato in carcere. Ad arrestarlo gli uomini della squadra mobile della questura di Latina. A suo carico una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di duplice, tentato, omicidio, ricettazione e sparatorie in luogo pubblico. Ci spostiamo ad Aprilia dove una 35enne aveva realizzato in una stanza del suo appartamento una serra artigianale. All'interno c'erano tre piante di marijuana alte 1,80 m. In casa è stato trovato inoltre il materiale per il confezionamento e la cottura della sostanza. Per questo i carabinieri hanno arrestato la padrona di casa e denunciato il suo convivente. Torniamo a parlare del peschereccio Rosinella affondato nelle acque del golfo di Gaeta dopo essere salpato dal porto di Formia. Ancora senza esito le ricerche dei tre membri dell'equipaggio. Intanto però l'ispezione subacquea con il ROV ha permesso di accertare che l'imbarcazione non ha danni strutturali e che quindi si apre l'ipotesi dell'affondamento dovuto alla collisione con un'altra imbarcazione. Queste le principali notizie dalla provincia. La linea ritorna allo studio. Grazie Laria. Passiamo alla pagina sportiva. Nella trentatresima giornata del campionato di Serie D Girone H l'Unicusano Fondi sarà impegnato nell'ultima trasferta del campionato al Viviani contro il Potenza. L'andata era finita con un poker dei Fondani ma vista l'ultima partita al Purificato contro il Sansevero che si è conclusa con un rocambolesco pareggio in rimonta per l'Unicusano Fondi gli uomini di Mister Mariani non possono più fare passi falsi e l'obiettivo rimane confermare il quinto posto per avere la certezza di giocare i play-off. Intervistato da Alessia Filippi il tecnico dell'Unicusano Fondi Ferruccio Mariani ha tracciato un bilancio del campionato e delle ultime due gare che dovranno affrontare. Ascoltiamo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.